Ciao a tutti, sono Mauro Casciani e lavoro e vivo alle isole Maldive. Il 6 e 7 maggio invito a votare Simone Petrangeli, perché Simone Petrangeli è come me e come voi tutti. Ci aiuterà a risolvere i problemi della città che in 18 anni la vecchia amministrazione era riuscita a risolvere. Simone Petrangeli è un amico, è una persona comune. Tornerò il 6 maggio per lui, per votarlo e per farlo leggere il nuovo sindaco della città di Rieti. Grazie.